Giovedì 14 aprile alle ore 10.30 nella Galleria della Fondazione Banca del Monte di Foggia di Via Arpi è in programma l'inaugurazione della mostra intitolata L'altra possibilità. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Foggia e dal Centro Servizi per il Volontariato in collaborazione con la Casa Circondariale di Foggia. Si tratta, come racconta il sottotitolo dell'iniziativa, un reportage sul mondo penitenziario, dell'esposizione dedicata alle foto di Giovanni Rinaldi e al racconto della giornalista Annalisa Graziano. All'inaugurazione è previsto l'intervento delle autorità e dei rappresentanti istituzionali degli enti partecipanti all'iniziativa. La mostra rimarrà aperta fino al 29 aprile 2016, da lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Si intitola Anna Matera, la passione e l'intelligenza di una donna socialista. Il volume è a cura di Michele Galante, che sarà presentato giovedì 14 aprile presso la Sala della Ruota di Palazzo Dogana. L'evento è organizzato dalla Fondazione Vittorio Foa. All'incontro, moderato dal giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Filippo Santigliano, parteciperanno, oltre all'autore, Giorgio Benvenuto e Patrizia Resta, docente dell'Università degli Studi di Foggia. Quarto appuntamento della rassegna Libri in Scena, che avrà come ospite al Cineporto di Foggia Mario De Siati. Lo scrittore pugliese incontrerà il pubblico del Cineporto giovedì 14 aprile alle ore 20, per raccontare il suo lavoro e il rapporto tra il romanzo Il paese delle spose infelici e l'omonima trasposizione cinematografica diretta da Pippo Mezzapesa. A seguire alle 21.30 circa ci sarà la proiezione del film. L'incontro sarà condotto da Michele Trecca, responsabile della libreria Ubic di Foggia.